La Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, promuove ed organizza per sabato 10 febbraio alle ore 14.30 ad Acciaroli l'iniziativa per Angelo, conoscere la verità per tornare a credere nella giustizia, una marcia per continuare a chiedere verità e giustizia perché le indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica trucidato con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010, non siano archiviate perché lo Stato non rinunci a cercare chi ha ucciso lo Stato. A seguire, fanno sapere dalla Fondazione, presso il Castello dei Principi Capano di Pollica, si svolgerà un incontro, dibattito, al quale prenderanno parte numerosi amministratori referenti delle associazioni e della società civile del nostro Paese. Intanto, sul noto portale change.org è in corso una petizione per dire no all'archiviazione dell'inchiesta relativa all'omicidio di Angelo Vassallo.